Il progetto dell'inceneritore di rifiuti speciali nel nosocomio del Cardarelli preoccupa le minoranze in consiglio regionale, il percorso manca dell'impatto ambientale. In aumento le imprese del settore costruzioni, la provincia di Campopasso davanti a quella di Isernia per numero d'aziende attive, verso costruzioni sostenibili. Occorrono regole omogenee e semplici per l'ingresso a scuola degli alunni, la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati a partire da lunedì 7. Punto guadagnato con merito e con fortuna quello del Campopasso nella trasferta di Taranto, 1-1 in finale allo Stadio Pugliese con rete di Emmausso. Buon pomeriggio gentili telespettatori. Il progetto dell'azienda sanitaria di ripotenziare l'inceneritore dei rifiuti speciali all'ospedale Cardarelli del Capoluogo, inceneritore fermo da anni, preoccupa la minoranza di centro-sinistra. Interrogazione in consiglio regionale. Pochi lo sanno perché è fermo da anni, ma presso l'ospedale Cardarelli di Campopasso esiste un inceneritore che torna oggi ad essere al centro di un dibattito nell'ambito della politica regionale. Tutto nasce dal fatto che dal 2018 l'Hub regionale risulta privo di un impianto che potesse bruciare i rifiuti ospedalieri speciali, compito oggi assegnato ad una ditta esterna. Così, ad agosto del 2020, il direttore dell'ASREM ha cercato il modo e la maniera di attivare un nuovo impianto con l'obiettivo di un risparmio dei costi di tale affidamento. Ha sondato le varie possibilità aggiungendo alla proposta di un privato al quale spetterebbe le spese di progettazione e di costruzione in cambio dei proventi derivati dalla gestione. Al relativo avviso ha risposto una sola ditta, la d'inizio Eugenio SRL, che ha proposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica. La commissione, nominata dall'ASREM con la presenza di rappresentanti dell'ARPA, ha ritenuto idonea la proposta. A questo punto le perplessità sono tante, soprattutto da parte del gruppo consigliare regionale del Movimento 5 Stelle, che ha inteso presentare una interrogazione urgente. La realtà è che qui a Campobasso si dovrebbero bruciare tutti i rifiuti speciali provenienti dalle strutture sanitarie dell'intero Molise e forse perfino da qualche altro territorio fuori legione. E poi, cosa assai importante, mancano del tutto gli studi e le analisi degli impatti ambientali, unici a dissipare i dubbi sulle ricadute nocive per la popolazione. Ultima nota, un inceneritore oggi sarebbe già una pratica vetusta, visto e considerato che l'innovazione tecnologica già propone altre soluzioni, come la vaporizzazione e il riciclo degli scarti. Prenderà il via domani in tutta Italia la distribuzione dell'antivirale Paxlovid 11200, i trattamenti completi che inizieranno ad essere distribuiti nel Paese dalla Casa Farmaceutica Pfizer. Il contratto nazionale prevede per questo 2022 600.000 trattamenti con l'antivirale. Ritardi nei pagamenti alla sanità accreditata della Regione Molise. I sindacati CGL, Cisle e Will sollecitano il Governo di centrodestra ad attivarsi. Si dichiarano preoccupati i sindacati di CGL, Cisle e Will in merito ai ritardi dei pagamenti della Regione Molise alle strutture sanitarie accreditate e private. In un periodo di pandemia questo crea ulteriori difficoltà all'ospedalità privata accreditata con lavoratori dimezzati a causa del Covid che comunque portano avanti le strutture facendosi carico dell'assistenza dei malati che non trovano posto a Cardarelli o negli altri ospedali pubblici. Ritardi incomprensibili per tali ragioni le categorie sindacali hanno nuovamente sollecitato la Regione al rispetto degli accordi stabiliti sia regionali che nazionali per quanto concerne il versamento della quota del 50% dell'incremento tabellare del rinnovo del contratto. Si evidenzia che i lavoratori hanno riscosso solo gli arretrati e l'adeguamento contrattuale di competenza delle aziende sanitarie private mentre non è stato liquidato il restante 50% a carico della Regione Molise che si aggiungono al ritardo del pagamento delle prestazioni degli anni precedenti oltre che al sollecito del trasferimento delle risorse per le prestazioni sanitarie effettuate dalle strutture accreditate. Nonostante l'annuncio da parte della Regione Molise e il provvedimento a firma dei vertici dell'azienda sanitaria ad Agnone le sale operatorie del San Francesco Caracciolo restano chiuse. Si resta quindi in attesa in ospedale per rendere operativa la chirurgia ambulatoriale complessa. Incremento delle imprese attive nel settore dell'edilizia nel 2021 c'è stata una crescita sia a Campobasso che a Disernia di una buona percentuale rispetto agli anni precedenti il 2019 e il 2020. Il Salone Internazionale dell'Industrializzazione Edilizia, il SAIE, attraverso il suo report annuale della Fiera delle Costruzioni, fa il punto sulle imprese attive sull'intero territorio italiano tenendo conto dell'annualità appena conclusa e rispetto ai periodi precedenti. La situazione nella nostra Regione è abbastanza chiara e racconta di un aumento delle imprese attive. Sia il territorio della provincia di Campobasso che in quella di Isernia la crescita è stata in percentuale significativa, toccando nel 2021 il numero di 3.821 imprese attive, che significa un più 1,9 rispetto al 2020 e un più 2% rispetto al 2019. La provincia più ricca di imprese è Campobasso con 2.584 e un più 1,7% con Isernia che segue con 1.237 imprese ma con una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente, più 2,3%. Decisamente un buon risultato che fa sperare nell'andamento di quest'anno, dove le stime, sicuramente molto attente ed adeguate, parlano di una occupazione che dovrebbe variare di 880 unità in più e senza calcolare le uscite. Un ritmo decisamente soddisfacente che però ha bisogno di essere sostenuto in modo più efficace, soprattutto attraverso incentivi e scelte progettuali che dovranno anche produrre nuove, più preparate figure professionali, esperte di strategie ecosostenibili, un modo per incrementare le assunzioni ma anche determinare i cambiamenti di rotte, ormai necessarie di vitale importanza per dare sostegno ad un settore assai significativo sia per l'economia che per le attività sociali e culturali di luoghi e persone. Il questore Giancarlo Conticchio ha disposto a Termoli la chiusura per una settimana di un'attività commerciale per motivi di ordine pubblico al fine di impedire e protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Il provvedimento è scaturito da numerose segnalazioni circa la presenza al suo interno di diversi pregiudicati come abituale luogo di ritrovo. Cambiamo argomento. Diverse e poco chiare le nuove misure sulla scuola che andranno in vigore dalla prossima settimana. Il sindacato CGL chiede al Ministero dell'Istruzione di non abbassare la guardia. Abbassare le difese sanitarie per dire che va tutto bene non risolve i problemi inerenti la pandemia. E questo è il commento odierno della CGL alle modifiche delle regole per quarantene didattica a distanza annunciate dal Governo nazionale nel corso della cabina di regia. Da lunedì 7 febbraio i cambiamenti sono programmati in tutti gli ordini di scuola. Per le classi dell'infanzia è prevista la sospensione della presenza in aula per tutti al quinto caso di positività. E la didattica a distanza da casa può essere disposta solo per 5 giorni. Per la scuola primaria invece la DAD sarà rivolta ai sole alunni non ancora vaccinati al Covid e a partire dal quinto caso di positività in poi. Mentre al primo caso di positività scatta per i ragazzi solo l'obbligo di autosorveglianza. Per medie superiori si passerà la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe. Le misure annunciate da Palazzo Chigi puntualizza con critica il sindacato mirano ad una normalizzazione fittizia, una normalità non adeguata ai dati di contagio che vive ogni istituzione scolastica. Semplificare non vuol dire diminuire le tutele ma rendere omogenee le regole per gli studenti indicando misure chiare e non numeri farraginosi. Fuori dai cancelli dello stabilimento automobilistico Fiat Stellantis di Termoli erano presenti ieri pomeriggio i sindacalisti del SOA per un presidio con la finalità di chiedere il ritiro della cassa integrazione e chiarezza sulle produzioni in fabbrica del motore GSE. Non deciso invece per la delocalizzazione industriale dal Basso Molise verso la Polonia. Il futuro occupazionale di molti dipendenti è appeso a un filo mentre i vertici dell'azienda continuano a parere del sindacato operai auto-organizzati nelle improvvisazioni. In continua espansione la produzione e vendita di miele un settore che può diventare una vera e propria eccellenza alimentare in ambito locale. Che sia millefiori di acacia o castagno il miele molisano ha le potenzialità per diventare un'altra eccellenza grazie a un territorio ricco di biodiversità ma con pochi allevamenti intensivi soprattutto nelle aree collinarie di montagna l'apicoltura è un comparto in ascese e riveste una sua importanza sia per l'aspetto economico che per la salvaguardia dell'ambiente naturale le opportunità di lavoro che ne derivano permettono di integrare il reddito degli imprenditori agricoli a metà marzo scadranno le richieste di contributo a sostegno dell'apicoltura il ministero delle politiche agricole ha messo a disposizione poco meno di 78 mila euro per sostenere quest'anno gli apicoltori molisani il bando nasce con l'intento di incentivare le azioni volte a migliorare la produzione e vendita del miele gli interventi sono di assistenza tecnica e formazione contrasto alle malattie dell'alveare provvedimenti a sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico non va dimenticato inoltre che l'apicoltura viene praticata anche in zone impervie permettendo in questo modo all'apicoltore di fungere da sentinella del territorio in caso di calamità naturali sempre più frequenti nelle due province a causa dei repentini cambiamenti del clima sabato 5 dopo domani è la giornata mondiale delle zone umide alla piana dei mulini di Colle d'Anchise la Lega Ambiente organizza una passeggiata scientifica per conoscere meglio l'ecosistema presente lungo il fiume Biferno l'obiettivo che il Lega Ambiente si pone con questo evento è informare la collettività sui temi della tutela di un habitat importante quale quello del Biferno la passeggiata scientifica avrà inizio alle ore 9.30 la situazione del trasporto pubblico mostra enormi difficoltà con evidenti riflessi negativi sia sull'utenza che sugli autisti ne parliamo nel nostro programma focus settimanale con i dirigenti sindacali Franco Rolandi e Carmine Mastro Paolo sollevare ancora una volta il disagio che stanno attraversando i lavoratori del trasporto pubblico locale oggettivamente vedere imprenditori che magari ormeggiano le loro grandi e lussose imbarcazioni nel porto di Termoli e poi non pagano i lavoratori non rispettano i diritti più elementari io ho saputo di lavoratori che da 10 anni aspettano persino le consegne delle divise o che sono costretti a fare i decreti ingiuntivi ormai da 20 anni imprese che disattendono persino impegni sottoscritti come si diceva prima in prefettura e al cospetto anche della stessa regione queste cose non si possono più sopportare io sono tre anni che sto affrontando quindi mi sto occupando di questo problema avevamo cercato attraverso un accordo che abbiamo sottoscritto a giugno di porre fine a questo malcostume non ci stiamo riuscendo e questa cosa è gravissima se si considera che il personale gli addetti al trasporto pubblico locale in Molise sono i peggior pagati in tutta Italia non a caso il 25 febbraio ci sarà una nuova mobilitazione un nuovo sciopero per rivendicare un contratto nazionale che è scaduto dal 2017 vengo invitato come sindacalista dei trasporti ma poi mi ritrovo a parlare quasi come un pendolare portando le problematiche più degli ultimi che dei penultimi a Stubund che sono i lavoratori dei trasporti che come diceva Franco giustamente aspettano da anni il rinnovo del contratto sono i meno pagati d'Europa infatti ormai sui famosi imprenditori che forse io detesto perché ho fatto sindacalista in questo settore è giusto però vedono in Evas proprio i concorsi cioè non ci sono tante persone disposte a portare un pullman per 1500 euro al mese con le responsabilità che ci sono perché l'Italia non è messa bene rispetto all'Europa sul trasporto pubblico e su appunto questo obiettivo di ridurre l'uso dell'auto propria perché forse siamo un paese dalla Fiat non lo so siamo un paese che ci piace andare in macchina col braccio di fuori non lo so però l'Italia è ultima in Europa e in Italia in Molise è il fanalino di coda di questo TPL di questo trasporto pubblico che non fa quello che dovrebbe fare che potrebbe fare perché le potenzialità sono grossissime il catapanano Iris subentra al traghetto Isola di Capraia per i collegamenti tra il porto di Termoli e le isole Tremiti l'isola di Capraia è stato venduta all'asta per poco meno di 5 milioni di euro da parte di Caremar Iris ha invece una lunghezza di 55 metri del largo 16 costruito alla fine degli anni 90 può trasportare fino a un massimo di 452 passeggeri e raggiungere la velocità di 40 nodi sovraffollamento nelle carceri della regione è stato chiesto subito un piano adeguato per far fronte all'emergenza carenza all'interno delle carceri anche la consigliera regionale Eida Romagnolo al fianco della categoria dei sindacati che lamentano una situazione di stallo ormai soprattutto per quel che riguarda la casa circondariale di Campobasso oltre il sovraffollamento vi è un'evidente mancanza di personale di polizia penitenziaria una condizione che mina la garanzia di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto di via Cavour nello specifico rispetto alle 112 unità previste l'organico ne conta 99 anche gli amministrativi sono in difficoltà con 15 impiegati in meno i turni di servizio poi registrano decine di ore di straordinario per via dello sforamento della quotidiana presenza l'esponente dell'assise di Palazzo Daimmo infatti già nel maggio del 2021 aveva portato la questione all'attenzione del Consiglio regionale rimarcando le numerose criticità che interessano anche i penitenziari di Larino e di Sernia dalla legge Madia che ha determinato i tagli agli organici al blocco del turnover i poliziotti delle carceri non riescono più a godere dei diritti minimi di riposi e licenze mentre la situazione diventa sempre più ingestibile urge pertanto un interessamento ed un intervento immediato da parte dei vertici istituzionali competenti Romagnolo dice che non si può più aspettare bisogna colmare tempestivamente la gravissima carenza di personale nelle case circondariali della regione il dottor Carlo Capparuccia cardiologo all'ospedale di Chieti è stato confermato alla guida della CISL Medici di Abruzzo e Molise segretario aggiunto Antonio Biondi dirigente medico di oculistica all'ospedale di Sernia nuovo ed importante riconoscimento al Neuromed la lega contro l'epilessia ha riconosciuto l'istituto di ricerca di Pozzilli come centro ad indirizzo chirurgico di terzo livello il centro per la chirurgia dell'epilessia dell'istituto Neuromed di Pozzilli attivo da più di vent'anni ha ottenuto recentemente dalla lega italiana contro l'epilessia il riconoscimento di centro ad indirizzo chirurgico di terzo livello un atto assai significativo per un percorso scientifico che premia una unità operativa che si dedica da tempo allo studio e alla cura di quelle patologie che non rispondono adeguatamente ai farmaci e quindi necessitano di essere valutate negli e dagli ambiti della chirurgia questo riconoscimento è Cilusinga in quanto la società scientifica di riferimento che è la lega italiana contro l'epilessia ha giudicato il nostro centro come avente le caratteristiche proprio di poter gestire nella sua complessità una persona con epilessia che si rivolge a noi e che quindi può essere seguita in maniera multidisciplinare e presa in carico globalmente il nostro è un centro ad indirizzo chirurgico per cui si cura essenzialmente l'epilessia farmacoresistente quindi quelle forme di epilessia che non rispondono correttamente in maniera adeguata i farmaci oggi disponibili e quindi in qualche maniera merita un approfondimento proprio per considerare la possibilità di un trattamento alternativo che è quello chirurgico l'epilessia è una condizione neurologica che oggi può essere curata nella stragrande maggioranza dei casi quasi due terzi delle persone con epilessia che si rivolgono a un centro specializzato può essere correttamente curato e circa il pregiudizio beh ahimè sì in alcune realtà socioculturali ancora l'epilessia è stigmatizzata ed è vista come qualcosa di fortemente limitante anche oltre al reale limite che la persona che ne è affetta produce quindi bisogna lavorare molto da un punto di vista educativo formativo e sociale proprio per abbattere queste barriere di pregiudizio ci sono altre possibilità per esempio appunto il trattamento chirurgico le persone che non rispondono ai farmaci possono essere studiate lo studio è una messa in campo di una serie di indagini che possono essere anche di livello invasivo cioè registrare l'elettroencefalogramma direttamente dal cervello proprio per identificare quella zona che poi i nostri chirurghi specializzati possono rimuovere in sicurezza è confermato il premio inventiamo una banconota promosso dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Istruzione gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 18 di questo mese e adesso come ogni giorno spazio al meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo Cielo sereno oggi su gran parte della regione dalla sera coperto le temperature odierne sono comprese fra la minima di 3 gradi a campo basso e la massima di 14 gradi a disernia massime in lieve calo dai prossimi giorni domattina deboli annuvolamenti sul Molise da molto mosso a mosso il mare Adriatico venti deboli variabili e siamo alla pagina sportiva Bari, Monopoli e Francavilla non sbagliano il turno infrasettimanale vediamo i risultati di ieri pomeriggio nel calcio di Serie C recupero della seconda giornata di ritorno Catanzaro-Picerno 2-0 Fidelis-Sandria-Catania 1-1 Monterosi-Bari 0-1 Paganese-Latina 1-2 Vibonese-Virtus-Francavilla 1-2 Monopoli-Turris 2-1 Palermo-Messina 2-2 Taranto-Campo Basso 1-1 Nel pomeriggio di oggi Avellino, Juve-Stabia e Potenza-Foggia La nuova classifica Bari 51 punti Monopoli 42 Virtus-Francavilla 40 punti Avellino-Turris e Catanzaro a 39 Palermo 38 Taranto 33 punti Latina 32 Foggia 31 Picerno e Juve-Stabia a 30 Catani e Campo Basso 26 punti Monterosi 24 Paganese 22 Messina 19 Fidelis-Sandria 18 A 15 punti chiudono la Vibonese e il Potenza Il Campo Basso conquista un punto pesante A Taranto Squadra con poche idee nel primo tempo Ma riordinata e cattiva nella ripresa Emma Usso risponde alla rete iniziale di Giovinco Il Campo Basso esce indenne dal terreno dell'Erasmo Iacovone Porta a casa un punto sostanzialmente meritato Per quanto visto soprattutto nella seconda parte della contesa A dirigere il confronto Dario Di Francesco Della sezione romana di Ostia Dinanzi a 2000 spettatori Arriva dopo circa 100 secondi Il vantaggio dei rosso-blu Ionici Sulla sbandata in uscita dai pali di Zamarion Che lascia la porta sguarnita Giovinco al suo ottavo centro Non perdona da posizione defilata Partita subito in salita Per Sbardella e compagni Già privi in difesa dei centrali Menne e Dalmazzi E a metà campo di Capitan Bontà Al minuto 11 si rivedono i padroni di casa Schierati con un inedito 4-2-3-1 da Giuseppe La Terza Ma è providenziale nel cuore dell'area Il posizionamento di Magri Che sbarra la strada Saraniti Lanciato in azione ficcante in verticale Al quarto d'oro ancora pericolosi Pugliesi Sul traversone di Mastro Monaco Il centravanti Saraniti anticipa tutti e gonfia la rete Buon per i lupi Che la sua posizione è al di là della linea difensiva avversaria I rosso-blu di casa lasciano le trame del gioco agli avversari Ponendosi dietro la linea della palla L'undici di Mirko Cudini è però lento e prevedibile nella manovra Sono ancora i locali più minacciosi Dopo la mezz'ora il terzino Versienti Rientra sul mancino e impatta il cuoio dall'interno dell'area Verso la porta di Zamarion Applausi dalle gradinate Ripresa fuori il deludente attaccante esterno di Francesco per gli ospiti E dentro l'albanese Merkai Al terzo discesa imperiosa di Van Zand che scarica per Candellori Sinistro interessante ma fuori misura Si riaffacciano in avanti i lupi con Persia che calcia da posizione centrale Ma trova solo l'angolo Il campo basso è adesso più risoluto Spingono sulle fasce Van Zand da una parte e Fabriani dall'altra Gli assalti dei molisani vengono tenuti a bada al tredicesimo dall'esperto Civilleri Che alza la palla campanile nell'area piccola per la testa di Saraniti Zamarion abbranca in qualche modo la sfera Ma appena un minuto dopo gli ospiti trovano la rete del pareggio Merkai si disimpegna sul binario sinistro Offre a Rossetti la prima conclusione salvata da Chiorra Ma all'estremo difensore nulla può Sul successivo tiro ravvicinato dell'ex Emmausso Che firma l'1-1 Il campo basso contiene a sufficienza i padroni di casa Non succederà più nulla fino al minuto 36 Quando Falcone ruba il tempo a Tengorang E inventa un destro al volo Zamarion è battuto ma viene graziato dal legno La partita si avvia sul risultato di parità Le squadre hanno speso molto Ma mister la terza indovina il cambio dell'effervescente Manet Il giocatore di colore viene ostacolato ingenuamente in area da Van Zand Al tramonto della gara Per il fischietto di Francesco ci sono gli estremi per la massima punizione Ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri Saraniti ad un giro di lancette dal novantesimo Zamarion resta in piedi fino alla fine Ci mette la sagoma e sbarra la strada Al centroavanti tra la gioia dei suoi tifosi assiepati in curva sud È l'ultima vera emozione di una partita dai due volti Meglio il Taranto nei primi 45 minuti Campo basso più spigliato e rapido nelle scelte e nei cambi nella ripresa Domenica si torna in campo per il 25esimo turno di campionato I molisani ospiteranno il Palermo Nobile decaduta Gli ionici faranno visita al Monte Rosi in quel diviterbo Giornata rosso-blu domenica pomeriggio alle 17.30 per assistere alla partita di campionato Campo basso Palermo nell'impianto di Contrada Selvapiana Prezzi ridotti in ogni settore dello stadio ma non saranno validi Gli abbonamenti in prevendita 50 euro in tribuna centrale 20 nelle tribune laterali e 10 euro nelle curve 328 i posti assegnati alla tifoseria rosa nero siciliana Cambiamo adesso disciplina sportiva parliamo di pallaganestro femminile di A1 La Magnolia a campo basso esce sconfitta 76 a 62 dalla trasferta di Sassari Al termine di una gara in cui le rosso-blu finiscono per pagare In particolare il primo quarto di partita Ciagas e Nicolodi riportano le molisane sino almeno 8 del 67 a 59 Ma la Dinamo riesce alla fine ad approfittarne per arrivare a portare a casa i due punti Ora occorre ritrovare la giusta serenità, la coesione e di poter recuperare la statunitense Rescianda Gray Per le Magnoli e sabato ci sarà all'arena il confronto interno con il quintetto Lombardo del Broni Con l'obiettivo di riscattare lo stop patito all'andata E siamo in chiusura il docente universitario Stefano Moffa E' stato nominato delegato per il calcio femminile del Molise Da due stagioni sportive il Riccese Moffa porta avanti il progetto Rosa Nella Chaminade Capovasso L'obiettivo è quello di incrementare i numeri nel calcio a 5 Come nel calcio ad 11 nel settore femminile della regione Dall'attività di base alla categoria giovanissimi E con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale Grazie e arrivederci a questa sera